Il romanzo è ambientato in un piccolo paese di montagna dell'Appennino centro-meridionale e narra la storia di questa acquaiola, appunto, cioè questa ragazza, Maria, di 15 anni, che diventa acquaiola, cioè diventa la serva che va a prendere l'acqua per la casa del signorotto locale e si fa tre chilometri più volte al giorno con qualsiasi tempo. Questa è la sua occupazione. E segue un po' la vita di questa ragazza, che poi diventa una donna, che attraversa problemi e tragedie e alla fine, da una vita di grande difficoltà, riesce a trovare, finalmente, a raggiungere un momento di grande felicità, di grande gioia. La vita che le dà tanti problemi, tanti dolori, tante difficoltà, alla fine, come dice lei, da un grande male nascerà un grande bene che lei potrà vivere nella parte finale della sua vita. La sua vita si intreccia, stranamente, con le vicende di Luigi. Luigi, che è il più piccolo di questa famiglia, che è la famiglia un po', diciamo, dei signorotti locali, che è un bambino e diventerà un ragazzo molto turbolento, molto difficile, molto particolare, che va in rotta con la sua famiglia e che sembra trovare solo nell'acquaiola un legame affettivo più intenso, oltre che con uno dei suoi fratelli. Le loro vicende si intrecceranno, si intrecceranno anche molto strettamente, drammatiche, ma alla fine, in qualche modo, salvifiche per tutte e due. Maria è una donna che è molto collegata e inserita in un certo ambiente. Lei vive in questo paese di montagna, che è un paese povero. Siamo alla fine dell'Ottocento e ai primi 40 anni del Novecento, quindi i paesi del sud, come nel nord, vivevano, si trattava di società estremamente povere, in cui regnava l'analfabetismo, che portava come conseguenza una grande staticità, una società molto ferma, molto immobile, con strutture di pensiero, oltre che di vita, molto statica, molto ferme. Ma rispetto al contesto sociale nel quale vive, è una donna con una personalità incredibile, una personalità, per mio conto, piena di doti e di pregi, ma che nel contesto sociale in cui lei vive, vengono alla fine da lei stessa, oltre che dagli altri, in qualche modo, considerate difettile. Questo romanzo, che non è un romanzo storico, è anche storico, a mio avviso, perché i protagonisti sono collocati in un contesto di società che viene comunque molto ben analizzata. Il contesto sociale è quella dell'Italia post-unitaria, fine dell'Ottocento, inizi del Novecento. E sebbene sia ambientato in un luogo preciso d'Italia, la realtà era quella per tutti i paesi d'Italia, per la gente povera, per questi paesi poveri, l'avvento dell'unità è stata, per esempio, per tutti una gran tragedia, per certi aspetti, perché ha portato leggi che per queste società erano leggi difficili. Pensi alla legge che ha costretto alla leva obbligatoria per cinque anni. Per cinque anni ti portavano via il figlio che andava sotto le armi. Per questa gente che vive di mano d'opera del lavoro dei figli, questa è una tragedia. Per cinque anni il figlio spariva, non si sapeva dove era, non c'erano i telefoni, non c'era gente analfabeta, non poteva scriversi lettere, eccetera, eccetera. Quindi, tutto questo squarcio, questa vista sulla società di quell'epoca è ben ricostruita nel libro, a mio avviso. Quindi, a mio avviso, resta comunque un romanzo anche storico. E, d'altro canto, è difficilissimo che un romanzo non sia anche storico, perché i personaggi non si muovono nel vuoto, si muovono nel loro contesto. E il loro contesto va ricostruito, perché se no ne soffre la psicologia del personaggio. Resta una figurina, non un personaggio che agisce, si muove all'interno di una logica e di una dinamica che viene ben ricostruita. Io mi affido molto alla memoria. Io ho avuto una nonna incredibilmente capace di raccontare. Ho trascorso la mia infanzia bevendo, goccia dopo goccia, questi racconti di paese di mia nonna, in cui c'erano tanti personaggi, tante storie, tante vicende di persone che erano state le sue compagne e compagni di vita. E quindi questi ricordi hanno avuto grande parte nella stesura di questo libro, che è sempre un romanzo, quindi sempre una rivisitazione di quello che è la realtà. Nel romanzo c'è sempre tutto di vero e tutto di falso, ma queste strutture di pensiero, di ricordi, hanno avuto chiaramente una grossa parte nella produzione di questo libro.